Ecco, bravo, volevo fare una fotografia. Io? No, sto vedendo le foto di ieri. Non ci crede nessuno. Nessuno? Aspetta che lo chiamo. Mi fa vedere come impasti, stai solo pulendo le mani, ma scusa. Oh, e qua puoi... Oh, ma sta lampeggiando. Perché si è reso conto che il pasto è troppo bene? No, ogni volta che spingi le mani sulla pasta, vibrano le luci. C'è lo che è l'attività migliore da fare su un topo che mi è testato. Ma è interessante questo libro. Signori, questa è una grande prefazione alla Santità della Domenica. Domenica. Allora? Grazie.